Un premio istituito appunto dalla vostra associazione alle aziende che incentivano la mobilità ciclabile. Di che cosa si tratta? Allora, si tratta di una certificazione, nel senso che le aziende aderiscono a questo progetto spontaneamente, volontariamente, e dimostrano di aver soddisfatto 55 requisiti e su questo viene definito un punteggio e quindi consegnato una sorta di certificazione, quindi più che un premio, un riconoscimento delle azioni che le aziende fanno per i propri dipendenti e per consentire loro di essere accompagnati, informati, seguiti nell'utilizzo della bicicletta negli spostamenti casa-lavoro. È un premio nazionale che rispondenza ha avuto tra le aziende? Allora, è un premio nazionale che però è anche la traduzione di un stesso identico protocollo che ha valore a livello europeo. Abbiamo iniziato nel 2020, abbiamo un buon riscontro, non tutte le aziende riescono ad ottenere questo riconoscimento. Abbiamo certificato aziende importanti come l'aeroporto di Bologna, l'aeroporto di Bergamo, la sede centrale di poste italiane a Roma e altre piccole aziende, soprattutto nel settore manifatturiero. Sempre di più quest'anno abbiamo delle richieste e stiamo iniziando con altre attività. Questa è la prima azienda in tutta la litoranea adriatica. Queste aziende devono superare delle prove oppure avere un punteggio o qualcosa. Come viene dato questo riconoscimento? Allora, il riconoscimento di fatto va a verificare sei ambiti tematici, diciamo rispetto alla comunicazione, rispetto ai servizi che vengono offerti ai dipendenti, al personale, vengono verificati quelle che sono le dotazioni proprio di attrezzature, quindi parcheggi, spogliatoi, docce e quant'altro, e quelle che sono le azioni di coordinamento, quindi di organizzazione vera e propria del personale. Ciascuno di questi elementi, a seconda di quelle che sono le attività messe in campo dall'azienda, riceve un punteggio che è prestabilito e da 1 a 10 ogni azione merita un tot di punteggio che stiamo provando a essere omogenei nella valutazione sia a livello nazionale che a livello europeo. La TechFem è stata una delle prime aziende a ricepire questo input per la mobilità dolce, prima con la sottoscrizione di un protocollo, ora con il ricevimento di questo premio. Che cosa avete fatto nel frattempo per trasformare l'azienda in un'azienda compatibile, diciamo così, con l'ambiente? Sì, recepire gli input ma anche promuovere delle azioni concrete, come naturalmente citavi, il protocollo di intesa con Profiglas, ASE, Tefano Center, il Comune, FIAB, Forbici e Ami Adrebus è un ambito nel quale lavoriamo concretamente per andare verso un obiettivo di riduzione del numero di automobili che ogni giorno affluiscono alla zona industriale e quindi si muovono comunque nella nostra città in favore del trasporto pubblico, la bicicletta e anche carpooling e car sharing nella nostra città. Abbiamo fatto appunto questa come iniziativa di sistema a cappello di tutto e in collaborazione con queste entità individualmente abbiamo pensato di rendere la nostra azienda più appetibile, comunque più pronta a ricevere i nostri dipendenti ciclisti, i nostri colleghi ciclisti tra cui me stesso, ovvero installando una bike station per poter ricaricare le bike o comunque intervenire per fare piccole manutenzioni e avere comunque una zona dedicata alla cura della bicicletta ma anche alla cura della persona perché ovviamente c'è bisogno anche di spazi come spogliatoi, docce per poter accogliere il ciclista nel modo migliore.